Volevo organizzare una live dove leggiamo tutti i programmi elettorali, se vi va. Beh, se mi fai sapere quanto si fa io mi prendo volentieri di riposo. Facciamo. Gianluca, voglio... Ma io sono stato portato qua con l'inganno. Voglio darti una notizia, caro Gianluca. Nella live di oggi esamineremo attentamente tutti i programmi elettorali dei più importanti partiti italiani. Vabbè, che ore sono? Io sono contento di spendere 54 minuti per questo. Sostegno alla natalità e alla famiglia. Liberare l'Italia e l'Europa dalla dipendenza dal gas russo e mettere a riparo la popolazione e il tessuto produttivo da razionamenti e aumento dei prezzi. IRPEF, riforma IRPEF con progressiva introduzione del quotiente familiare. Combattere la siccità e l'inquinamento delle nostre acque e al contempo ripulire i fiumi e i lacri. Progressiva eliminazione dell'IRAP, razionalizzazione dei microtributi. Produzione della flat tax sull'incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti. Cedolare secca al 21%, anche per l'affitto degli immobili commerciali. Durante i negoziati del pacchetto Fit for 55... Non c'è nulla di male. No, ma... Ah, una sveglia nuova. Mangiamela. Ah, perché sono le 10. Esatto. Quindi è finito l'orario lavorativo. Perché cos'è questa sveglia, scusa? No, ma... Non c'è tutto. No, ma... Grazie.